Facciamo una proposta, vi propongo le tre C. Le tre C sono la conoscenza, la cooperazione e la conversione. La conoscenza è già stata detta da autorevoli interventi prima di me, la conoscenza, la formazione, le competenze professionali sono un po' quello che sono l'antitodo proprio anche per cercare, l'antitodo più potente per eliminare le disuguaglianze, soprattutto in un mondo che sta cercando di avanzare attraverso le tecnologie, è necessario che ci sia una formazione continua in azienda, ma soprattutto che ci sia una formazione dei giovani tale per cui possono specializzarsi e orientarsi nel mondo del lavoro, perché c'è anche richiesta di lavoro specializzato, quindi la formazione deve essere sempre più adeguata al tipo di richiesta che fanno le nostre aziende, cooperazione, condivisione, è tutto quello che riguarda anche la messa in rete di quello che è la politica, di quelli che sono gli imprenditori, di quelli che sono le reti delle associazioni. È importante che ci sia proprio una condivisione forte in tutte le scelte, che si riparta dai patti territoriali. E la conversione, la conversione è un tema cristiano, ma è un tema molto forte, oggi si usano altri termini. Credo che ci sia bisogno di una conversione proprio di tipo di riformismo ecologico e sociale, dove non ci occupiamo soltanto della produzione perché dobbiamo produrre sempre di più, ma dobbiamo occuparci in modo particolare di come produciamo, di quali sono le cose positive che possono venire fuori da una comunità, da un territorio anche nel mondo dell'impresa.